Roma, 25 agosto 1960. La lancetta dell'orologio nazionale segna finalmente l'ora delle Olimpiadi. Il fuoco sacro che ha bruciato tutta la notte nel tripode innalzato sul Campidoglio giunge allo stadio dove centomila persone attendono la proclamazione dei giochi. Oggi, a gare iniziate, queste immagini possono avere perso molto della loro attualità, possono essere state superate dall'intalzare degli avvenimenti. Ma il gesto che dichiara aperta l'Olimpiade non può rimanere isolato dal sovrapporsi di altre sequenze. In questo momento tutti i 4.000 atleti giunti a Roma da più di 80 paesi sono uguali davanti alla folla. Tra loro si nasconderà il recordman di domani, l'uomo cavallo, il mutatore sportivo, ma a questo appuntamento di giovinezza non ci sono invitati di favore. Non esistono raccomandazioni o posti riservati. Domani tutti dovranno lottare con i muscoli induriti, con il respiro che sembra mancare, con il sangue che martella nelle tempie. Per ognuno di essi la presenza sul campo vuol dire allenamenti e sacrifici che spaventerebbero un uomo normale. Nello spazio di una gara tutti bruceranno mesi di preparazione come si spendono denari faticosamente accumulati. Ma all'Olimpiade non è fatta solo di pesi, di misure, di avversari da battere. Lo sport può catalizzare in queste riunioni supernazionali gli ideali di fratellanza che tutti vanno predicando, ma che nessuno si decida a mettere in pratica. Al di là del fatto sportivo, l'Olimpiade può insegnare una precisa regola di vita nel segno di una costante volontà di superamento nella pace.